Grazie per aver parlato con me. Non avrei mai immaginato di incontrare un Protean. È stato... divertente. Sì. Scoprire che le specie più primitive del mio tempo ora governano la galassia. Le Asari, gli umani, i Turian. Ci sono anche i Salarian. Quelle lucertole si sono evolute. Credo siano affibi. Mangiavano mosche. Comandante, vuoi contare su di me? Mi chiamano Javik. Allora benvenuto a bordo della Normandy, Javik.